Questa non è neanche quella originale, cioè nel senso quella della finale. Quella della finale l'ho regalata, tutto il completino, compleso l'intimo, compleso i parastichi, tutto, tutto, scarp, l'ho regalata al Museo del Calcio di Coverciano. Perché feci una scommessa con il direttore all'epoca del Museo di Coverciano e vedi che c'erano tanti trofei di tutta gente che non c'era più. E allora gli dissi, io direttore, io ti dico una cosa, che se tutto va bene, cioè non è che aspetto tra cent'anni che ti arriva sta roba, appena il giorno dopo ti faccio regalitare tutto. Lui disse, sì, ma veramente, non ti preoccupa, vediamo quello che succede. Allora gli misi tutto in un abuso e ancora non è mai stata lavata. Le promesse si mantengono, fortunatamente l'hai mantenuta e sono riuscita a farlo per tutti gli italiani.